Musica Allora, due elastici Uno grigio per le gambe e uno verde o rosso, light, che io purtroppo non ho light o medium, per le braccia, d'accordo? Musica Dovete prenderne uno verde, light o medium, per le braccia, e uno pesante, per le gambe Musica Pesante, pesante per le gambe Ah no, quello verde non va bene Quello verde chiaro va bene, quello verde scuro per le braccia non va bene Musica Allora, Clarissa No Clarissa No, sì Clara, ok Vabbè, Clara, Clarissa, insomma Dunque, il piede piatto Devi tenere il piede piatto, d'accordo? Le ginocchia sempre un po' piegate per darti la spinta Ok Iniziamo Giro la spalla, giro l'altra, ci scaldiamo Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Ancora Otto Sette Sei Sei Cinque Quattro Tre Due Uno E tutto il braccio Un Due Tre Quattro Cinque Sette Sei Sette Otto E ancora Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Due Nicoletta Devi prendere gli elastici Gli elastici Quindi provi lì Ok Ed ora possiamo mettere un elastico Iniziamo Si che ce ne sono Iniziamo Si che ce ne sono Passi chiudo Qui Due Tre Tre Quattro Cinque Sei Sette Ok L'elastico Deve essere teso Perché se Si arrotola Poi Springe troppo Quattro Tre Due E uno Bene Ora L'elastico sempre teso Se no chiaramente cade I piedi non devono rimanere stretti stretti Se no L'elastico scivola Da qui Apro e chiudo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Otto Otto Sette Sei Ginocchia leggermente piegate Qui Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Rimango qui Appena te Otto Due Tre Quattro Cinque Sei Schiaccio Schiaccio Otto Ancora Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due E uno Continuo Apro e chiudo Oh Due Tre Apro e chiudo eh Come se fosse un jumping dance Senza avvicinare troppo i piedi Uno Due Tre Quattro Cinque Cinque Sei Sei Sette Sette Otto Otto Sette Sei Cinque Quattro Uno Due Tre Due Rimango Qui Tartello Sette i glutei O li sento solo io O O Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Ancora Otto Sette Sei Cinque Quattro Quattro Due Continuo Da qui Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto La chicca vuole lavorare con una gambetta sola dopo dopo Otto Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Adesso dici che ho un crampo ma non è vero Due Uno E' solo perchè c'è pentita Rimango Uno Due Due Tre Quattro Gambe larghe Cinque Sei Sette Otto E ancora Otto Sette Sei Cinque Quattro Uno Due Guardate Guardate Uno E Su In alto On Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Ancora otto Sette 6 5 4 3 2 1 qua tra l'altro se non è abbastanza intenso potete raddoppiare gli elastici mettere un xivi più un xivi e così diventano due xivi un 2 xivi più un xivi quindi diventa 3 xivi ancora 4 3 2 e gli ultimi jumping dance 1 2 3 4 5 6 7 8 ancora 8 7 6 5 5 4 3 2 e rimango 6 7 e 8 stop stop avvicino come va? bene se va male va bene ok possiamo fermarci stare attenti a non inciampare nell'elastico e scendere e scendere e scendere premiamo l'elastico light lo mettiamo qui e scendere fermiamo l'elastico sotto i piedi da qui stendo giù lavoro col piscipite tenete l'elastico teso anche sulla mano d'accordo? 1 2 3 4 4 5 6 7 8 ancora 8 7 6 5 4 4 3 2 e 1 andiamo bravo 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 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 8 7 6 5 4 3 5 4 6 5 6 7 7 8 8 8 8 10 11 12 12 12 14 14 15 15 15 15 16 17 17 18 19 19 20 20 21 23 23 23 23 23 20 23 24 24 25 27 28 28 28 28 29 30 30 22 23 23 23 24 24 25 25 28 28 28 29 29 30 30 29 30 30 32 32 32 32 32 34 34 34 35 35 35 35 35 38 38 39 40 40 41 42 42 42 42 43 42 42 42 43 44 45 45 46 45 46 47 49 49 49 Il peso tutto qui è 4, tutto sulla cappa davanti, 5, 6, 7, 8 e ancora 8, 7, sentite il gluteo, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, ok cambiamo, qui, ro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 2, 3, 2 e 1, qui, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, benissimo, come va? Ritorniamo, qui, tra l'altro mi è venuta in mente una bellissima cosa, Allora, esaudiamo il desiderio della chicca, che era quella di fare dei jumping jacks ma single leg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 6, 4, 3, 5, 6, 7, 8, ancora 9, 4, 6, 7, 8, ancora 10, Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e stop. Ora da qui, apri e chiudo, solo molleggiando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e ancora, 1, 2, 3, 4, 5, il peso è sempre qui, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, brucia abbastanza, brucia abbastanza, no, non siete state pronte, si vede che e non brucia sufficientemente, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, brucia, non brucia, ok, non dite niente, ha detto poco, perché a me brucia tanto, altrimenti mi avrei fatto bene una serie in più solo per la chicca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bene piegate, schiaccio, schiaccio ed apro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ce ne sono ancora due da 16, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, 13, 15, 14, 14, 13, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, che bruciore, 6, 5, 4, 3, 2, e 1, come brucia? Tutto bene? Ed ora scendiamo Lavoriamo un po' con i principiti Sì, da 1, da adesso qui, da 1, da qui, 5, 9, 8, 8, 8, 9, sau produzione, 10, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 22, 25, 23, 23, 22, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 22, 23, 24, 25, 24, 28, 29, 21, 22. 1, sempre questo, in basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. E 1, ok? Cambio. Tania, non lo facevi qua, tinta, tu? No? Io sì. Foto, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sento bene, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, un battito, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, l'elastico in teoria non deve mai, deve sempre rimanere teso, no? Quindi mai così, sempre teso, ok? Ed ora si continua con i principiti, questa volta impugnatura, torta chiaramente, diagonale, lì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ancora, 8, 7, 6, la Nicoletta sta facendo più fatica di tutti, 4, 3, 2, 1, com'è? Cambiamo, impugnatura storta e 8, 2, 3, 4, 5, 6, se volete potete prendere quello più duro, elastico, no? 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ritorno, questa volta in diagonale ma in basso, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ancora, 8, la manica lo tende come niente, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1. Cambio, cambio, qui, vado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ha chiuso, 8, ha chiuso la porta, 7, 6, 5, no, no, io ho qui le chiavi, 4, 3, 2, 1, stop! Sentite i percepiti? Li sentiamo? Bene! Quindi possiamo tornare sul... Eh? No, ormai... Allora, mi è venuti in mente prima, vi ricordate quando vi avevo fatto fare il pinocchio? La ballerina, piedi extra ruotati, da qui, glutei contrattissimi, chiudo qua e apro, chiudo e apro, Qui, 1, 2, potete anche... Vedete voi le braccia? Dovete... Piedi aperti, la ballerina, quindi extra ruotati verso l'esterno, apri e chiudo, 1, 2, possiamo anche tenere le braccia così, 3, 4, 5, Giro i piedi, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, rimango qui. Un po' di po' pinguino, 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 centropiedi attravozati, otto, due, sentite, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, apro un po' di più, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e prechiudo, braccio avanti va? Uno, due, piedi aperti, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, tre, due, e uno, rimango. Giro i contratti, piedi aperti, otto, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, e ancora otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, apro di più, otto, due, tre, cinque, sei, un po' di più, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e a prechiudo. jumping jacks, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, con un salto al centro. uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ho sbagliato, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, continuo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, non mi fermo, qui, non mi fermo, qui, nel giro, gambe aperte, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, otto, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, sette, otto, 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 sette, tre, quattro, tre, due, e a prechiudo. sette, come va? sette, come va? allora, da qui, spesso, comana inafili, scherzo, stendo, 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 torno, stendo, una torsione cinque sei senza fretta sette otto che cazzo giù e ancora otto sette sei cinque quattro tre due e uno come va? benissimo e otto due tre quattro cinque sei sette otto ancora otto sette sei anche io cado cinque mi sono da concentrata quattro tre due e uno ok direi che possiamo farlo un'altra volta aggiungeteci un molletto otto 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 e tiro ok otto due su otto due due otto due tre tre su quattro quattro sette 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 otto 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 due sette sei cinque quattro tre due come va? e uno domani dovete lavorare ma poi una volta che i muscoli si incaldano non fanno più male oh oh due tre quattro cinque cinque sette otto 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 sette sei cinque quattro tre e due 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 uno come va? ci possiamo sedere a cumulamento qui? che dite? otto otto tre tre quattro cinque sette sette otto ancora otto sette sei cinque cinque quattro tre tre due e uno schiena sul trampolino sette 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 cinque sette quattro cinque tre 3, 2, 1, faccia la gamba, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, rimango, qui, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 8, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, 60, 2, 4, 6, 8, 80, 2, 4, 6, 8, 90, 2, 4, 6, 8, 60, 10, 2, 1, 2, moledio, trasporto, centro, CDC, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3 4 5 6 7 8 Ancora 8 7 6 5 4 3 2 Cambio Vado 1 2 3 5 6 7 8 Ancora 8 7 6 5 4 3 2 1 Cambio Questa volta Su e giù Gamba tesa 1 2 Piano piano 3 Contraete bene 4 Tenete la gamba scende che scende 5 6 7 8 8 E ancora 8 7 6 5 4 3 2 1 Cambio Sentite gli addominali Sentite gli addominali Vado su 8 2 3 4 5 5 6 5 6 7 8 E ancora 8 7 6 5 2 4 3 2 1 1 Ok Allora Da qui sulle gambette Tenetevi pure Scendo Da una parte e salgo Scendo 1 Scendo 2 Scendo 3 e 4 e 5 e 6 e 7 8 8 8 8 Sentite gli obliqui 7 6 5 4 3 2 2 Cambio parte 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 8 8 7 8 8 9 10 10 10 1 2 1 1 Ok Ginocchi al petto Rilasso Respiro profondamente 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 6 5 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 7 8 9 9